Se volete aiutarmi a fare più Pink Slips e Contest nel mio canale acquistate i vostri crediti da FIFA Ultimate Team Coins, troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli brutti e iscritti più brutti, bentornati su Jovi HD Sport, io sono Jovi Sport e questa è la serie scontro tra titani. Siamo giunti al terzo episodio, ora andremo ad aggiungere il secondo giocatore, lo avete scelto voi, sarà Socrates Totes, diciamo Brad è buono, Socrates perché è veloce, ottima test, ottimo difesa, pure ottimo passaggio, ovviamente eccezionale. Allora questa serie si incentra su una bestia, per me è Robby, per FIFA 4 in Italia è David Sif e in base alle partite che facciamo c'entra il partito di un giocatore, ad esempio una vittoria a un giocatore oro, sconfitta bronzo e pareggio argento. Se vinciamo con 3 o più gol di scarto, 83 in su, se vinciamo con 2 in giù, un giocatore da 82 in giù e quindi ora andiamo a disputare la partita di questo episodio. Ecco la squadra del nostro avversario, beh beh beh, diciamo ottima intesa, tutti nella stessa squadra, tra l'altro difensore, quindi diciamo che ha creato un'ottima intesa, però è sempre una bronzo. E quindi vediamo, dicono che, dicono, non dicono quelli del gioco, dicono che se è una squadra bronze con 100 di days è più forza di una squadra oro, senza intesa. Robby, frega la palla, Robby, il tiro di Robby, parata del portiere, Robby, ci fa tutta la difesa, Robby il tiro, fuori, no niente, datt. Per Royce, corri Royce, corri Royce, Royce, il tiro di Royce, 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 yes, primo gol al tredicesimo minuto, Marco Royce, velocissimo su quella fascia, Helen Villa con il suo destro. Il portiere Brown, naturalmente, non può farci nulla, 1-0, molto bene, Robby, dalla distanza, Robby, Robby, parata del portiere, Robby, immagino, cazzarola, Eh, corner, Robby, ho battuto questo corner, cercherò la testa di Soccarty, salvovo, niente, ma che cazzo hai fatto, vinchione di merda, Robby, il palonetto, Robby, no, guarda, mamma mia, sono un bagaglio, sulla linea, Sar, il tiro di Sar, tiratore scelto, Sar, Royce, il palonetto parato dal portiere, ma che cazzo proprio, Royce, palonetto fuori, vai, Robby, ma che cazzo sta a fare, oh, oggi non ha secco, non passa, no, Un cazzo di palonetto, primo tempo, conclusione a zero, solamente, superiorità nei tiri, ma nulla da fare, mamma mia, è uno schifo totale. Scusatemi se era un po' troppo tardi, il secondo tempo, il live, ma purtroppo il mercato ha deciso di rincoglionirsi, e quindi farò dei commenti, a parte, non il live, va bene, riprendiamo. Siamo su 2 a 0, Robben, ancora, perché il mio pensiero è ormai per il deciso di giocare proprio malissimo, stava cazzeggiando a pieno, Nat per Royce, il tiro di Royce, piega le mani del portiere avversario, e siamo su 4 a 0, se non ero, sì, qua ancora Robben, il tiro fortissimo, l'angolo autosinistro, uno da fare, 5 a 0, ormai 2 a 0, come ho già detto, cazzeggiava a pieno, qua Royce, il palonetto, 6 a 0, Nuno da fare, vittoria netta, altro gol con Robben, pensavo che dovesse uscire ma invece entrata, e siamo su 7 a 0, qua Dyer per al volo, cazzo al volo, bel tiro al volo, mamma mia, meno male, che questa partita è andata bene, Gol di Royce, quindi finisce così, 8 a 1, niente male, andiamo ora, quindi, vi dirò quali giocatori dovete scegliere, sono due portieri, due portieri, bene sì, quindi dovrete scegliere, Tra, rimanete qui, non vi muovete, a breve, a breve, o un po' di pazienza, dai, un po' di pazienza, allora, dovete scegliere tra, Manuel Neuer, oppure, Leino Tots, e sì, Leino Tots, ho provato entrambi, non vi do una mia opinione, se no poi vi influenzo, e quindi, Scegliete voi, commentate qui sotto, iscrivetevi al canso se siete già iscritti, scegliete tra, Noyer o Leino Tots, mettete mi piace se questo video vi è piaciuto, noi ci vediamo domani con un nuovo video, Ciao, e bello a tutti, e al prossimo video!